Un cordiale saluto a tutti, benvenuti da Stefano Ghetti. Il quadro meteorologico sul nostro paese è condizionato da due figure dominanti. Abbiamo l'anticiclone africano che a piccoli passi sta cercando di rosicchiare qualche chilometro verso nord. Invece abbiamo anche un altro elemento importante che sono queste continue correnti nord-atlantiche, umide, relativamente fresche, che poi sono alla base di questi temporali che continuano a minare la stabilità atmosferica sulle regioni del nord e in parte anche sulla dorsale appenninica, specie quella centrale. Così sarà anche per le prossime 24 ore, ma attenzione perché l'anticiclone africano si sta preparando ad invadere un po' tutto il bacino del Mediterraneo e ci riuscirà sicuramente e soprattutto già tra giovedì e venerdì farà sentire la sua calda influenza sulle isole maggiori, un po' su tutto il settore tirrenico del centro, parte anche del sud e già in Sardegna si potrebbero toccare punte intorno ai 37-38 gradi, mentre invece sul resto d'Italia comincerà un po' ad aumentare la temperatura, ma come dicevo fino a giovedì-venerdì ci sarà ancora un po' di instabilità nelle ore più calde, ma specialmente a ridosso dei monti. L'anticiclone invece avvolgerà tutto il paese proprio a cavallo del fine settimana, quando sulla Sardegna addirittura si potrebbero superare anche i 40 gradi, mentre sul resto del paese avremo sicuramente temperature un po' più basse, ma basse fra virgolette perché comunque quei 35-36-37 gradi mediamente da nord a sud si potranno sicuramente raggiungere. Attenzione perché laddove sì non ci sarà tutto questo caldo come in Sardegna ci penserà comunque l'umidità e il fenomeno dell'AFA ad esaltare maggiormente la sensazione di caldo. Insomma ci prepariamo alla seconda importante ondata di caldo africano che se tutto verrà confermato dovrebbe perdurare anche per gran parte della settimana successiva, forse solo al nord ci sarà una timida ondulazione di nuovo delle correnti atlantiche che potrebbero portare qualche temporale in più ed una moderata stemperata dei termometri, ma ovviamente attendiamo conferme in merito, insomma siamo entrati nel mese di luglio e adesso insomma è anche giusto che faccia caldo, magari se non facesse un caldo eccessivo forse sarebbe meglio un po' per tutti o almeno per gli amanti del fresco, ma purtroppo ben sappiamo come in questi ultimi anni a dominare le nostre estate, le nostre estati sono sempre l'anticiclone africano, il nostro compagno di viaggio, una volta era l'anticiclone delle azzorre che ci regalava temperature decisamente meno elevate, adesso invece abbiamo l'anticiclone africano che non solo ospita anche aria piuttosto umida perché risale dal nord Africa attraverso il nostro mare, ma porta anche temperature davvero molto molto elevate, ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Per ora è tutto amici, a più tardi.